Arrivano dal Ministero dell'Ambiente importanti chiarimenti sulla gestione della Posidonia Oceanica spiaggiata. Ora le amministrazioni comunali non hanno più scuse. È arrivato il momento di agire con intelligenza, senza appellarsi all'emergenza. Lo fanno sapere gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Agropoli attraverso una nota stampa. Il fenomeno di Posidonia si può gestire in maniera responsabile e ecosostenibile nel rispetto delle nostre spiagge e di tutti i cittadini. Con una circolare emessa dal Ministero dell'Ambiente, trasmessa a tutte le regioni, vengono finalmente chiariti alcuni aspetti importantissimi anche per la città di Agropoli sulla questione degli spiaggiamenti della Posidonia Oceanica. Oltre alle già note modalità di gestione, vi è il mantenimento in loco della Posidonia, lo spostamento degli accumuli, l'interramento in sito, il trasferimento degli accumuli presso impianti di riciclaggio, il trasferimento in discarica degli accumuli. Così viene finalmente chiarito che laddove l'accumulo di Posidonia in spiaggia compromette la normale fruibilità della stessa, il concessionario, gestore, pubblico o privato della spiaggia, può scegliere anche la modalità di reimmissione in ambiente marino delle biomasse spiaggiate. La reimmissione in mare, per essere resa ancora più ecocompatibile, richiede che le alghe siano preventivamente sottoposte ad un processo di vagliatura per rimuovere eventuali rifiuti presenti, ma anche la sabbia in esse contenuta. Inoltre un altro fondamentale chiarimento arriva dal Ministero anche per quanto concerne gli accumuli antropici, ovvero le montagne di Posidonia, come quella che negli ultimi 15 anni è stata creata sulla marina del porto di Agropoli, causata principalmente da una gestione scellerata del fenomeno, sottolineano gli attivisti. Il Ministero dell'Ambiente infatti chiarisce che tali accumuli possono essere usati, previ autorizzazioni e verifiche, per il ripascimento stesso delle spiagge. Praticamente continuano i pentastellati, il progetto che come Meetup Cittadini 5 Stelle Agropoli abbiamo già da anni promosso, ovvero quello del riutilizzo del materiale ammassato per ripristinare la spiaggia della marina che negli ultimi anni è stata selvaggiamente deturpata, quindi con tutta probabilità non servirà nessun appalto da 2 milioni di euro per smaltire in discarica tutto quel materiale. Basta procedere con le richieste di autorizzazioni alle autorità competenti, ripristinando anche in maniera definitiva una delle storiche spiagge simbolo della nostra città. Per noi è già un primo importante risultato sulla questione Posidonia, tematica che da anni studiamo e cerchiamo di portare avanti. In ogni caso, già con questa circolare e chiarificatoria, le amministrazioni comunali non hanno più scusanti e possono trovare la strada migliore per gestire al meglio questo fenomeno annuale nel rispetto del nostro litorale e dell'ambiente, ma anche delle casse comunali. Il Meetup Cittadini 5 Stelle Agropoli e il suo portavoce in Consiglio Comunale, Consolato Caccamo, sono a completa disposizione per l'amministrazione della città di Agropoli per supportare anche e a predisporre tutto quello che occorre affinché si possano gestire, secondo quanto prescritto dalla circolare, sia i nuovi eventuali spiaggiamenti estivi, sia alla risoluzione definitiva dell'obbrobbio dell'accumulo sulla marina del porto ai piedi del promontorio.